bella raga oggi siamo in questo nuovissimo video sono appena uscito da lavoro perché si fortunatamente sto iniziando piano piano ad andare a lavorare sono veramente stanchissimo e già tanto se non mi addormento mentre guido oggi è una giornata bellissima quindi non c'è un motivo per il quale non farsi un giro in scooter se vedete le gomme sporche di terra è perché stamattina ho fatto due foto nel prato e si sono immerdate tornando al meccanico apposta per questo per farmi consigliare un filtro che possa andare bene bisogna mantenere la distanza di sicurezza sia a piedi per il covip sia in macchina per gli incidenti ciao jimmy vabbè raga ci vediamo dopo che ho parlato con il meccanico perfetto ho appena finito di parlare col meccanico che mi è stato molto d'aiuto riguardo il filtro perché ovviamente non posso girare senza filtro quindi mi ha dato giusto due indicazioni e mi ha detto anche che girando senza filtro devi essere proprio sfigato se ti entra una pietra dentro il carburatore ovviamente basta che non faccio lo sterrato ma col booster non ne trovo il motivo per farlo io proverei a fare una pinna col ginocchietto si fa si fa ma se tipo io l'alzassi senza una mano paurosissimo se comunque si potrebbe riuscire a fare come i no non si può dire come i ragazzi di colore che con le moto che fanno che fanno così minchia ma ciò che sono veramente stanco ho lavorato due ore e mezza come sapete appunto della mia ansia sto provando ad andare a lavorare quindi il pomeriggio provo ad andare in officina da mio padre che tanto è sua quindi appena anche sto lì un'ora o sto lì quattro ore a lui non cambia nulla certo che però due ore e mezza ho lavorato sono morto cioè ho le gambe a pezzi come diceva brusa i pvk sono veramente meteorologici e lo sto sentendo oggi ci sono tipo 20 gradi 17 gradi quant'è che c'è oggi non lo so e sto sentendo che è già cambiata la carburazione se ora e e e e ma ma che fa mette la freccia non gira fuma fuma quindi raga è ora di andare a casa che si sta facendo buio e io sono stanchissimo ho bisogno di una doccia a proposito parlando del lavoro dato che in questo periodo come già detto in questo video sto iniziando piano piano a lavorare mi viene più difficile portarvi dei video quindi non so se riuscirò sempre a rispettare i miei tempismi ovvero un video ogni tre giorni cercherò sempre di rispettarli ovviamente ma non è detto che tutte le volte riesca a portarvi appunto un video ogni tre giorni ad esempio già in questo periodo sono molto tirato con i video dato che questa settimana al pomeriggio ho lavorato praticamente tutti i giorni e quindi non sono potuto uscire per registrare o cose del genere adesso mettiamo lo scooter in garage ultima cosa da dire in questo video sono i ringraziamenti ovvero volevo ringraziarvi a tutti quanti perché in pochissimo tempo siamo saliti da 18.000 a 23.700 iscritti nel momento in cui io sto registrando questo video quindi il 17 febbraio alle 5.52 io ho esattamente 23.700 iscritti e voglio ringraziarvi davvero tutti quanti perché stiamo diventando sempre più grandi e vorrò continuare a crescere sempre di più quindi raga io vi ringrazio ancora questo video termina qua noi ci vediamo con un prossimo video spero che i miei contenuti vi piacciano vi ricordo di lasciare un like seguirmi su instagram commentare iscrivervi e mi raccomando non dimenticatevi che fra tre giorni esce un prossimo video quindi bella raga noi ci vediamo con un prossimo video e un salutone ciao raga non so mai come chiudere i video mi sento sempre in imbarazzo mannaggia ciao